mi trovo ancora a milano un'altra volta questa settimana settimana molto ricca di eventi e di novità in termini di fotografia comunque nel campo fotografico sono ancora in via tortona quindi è sempre un po come ben sapete l'angolo di milano dedicato alla fotografia perché sono passato a provare la nuovissima z50 che ho qui e che grazie al signor jonathan autofocus riusciremo a vedere meglio eccola qui allora z50 una fotocamera che in realtà mi ha da subito colpito per un aspetto in particolare il rapporto qualità prezzo che però è l'aspetto che vi dirò alla fine perché per quanto riguarda diciamo il corpo la costruzione tutto quello che riguarda è effettivamente una fotocamera della serie z in miniatura reale perché è un po più piccola di z7 di z6 risulta comunque maneggevole una cosa che mi piace che ho subito apprezzato prendendola in mano tenendola in mano è proprio il fatto che nonostante sia una fotocamera mirrorless comunque apsc diciamo entry level chiamiamola così tra virgolette anche se non è vero ha comunque un'impugnatura molto molto comoda che comunque funziona nel senso che con la mia mano che è grossa io sono comunque comodo la impugno molto bene e questa cosa mi fa molto piacere perché di solito in questa gamma di mirrorless comunque in questa fascia di prezzo in questo target non è così di solito i corpi sono molto più ristretti sono molto più compatti e non sono proprio il massimo troviamo comunque un corpo in lega di magnesio un peso che si attesta intorno ai 450 grammi per il solo corpo quindi troviamo appunto le finiture interne in lega di magnesio un classico per questi prodotti comunque troviamo una diciamo impermeabilità parziale nel senso che ovviamente non può essere immersa in acqua questa fotocamera ci mancherebbe non è un action cam ma comunque resiste diciamo alla pioggerellina cose varie quindi potete anche avventurarvi un minimo mi piace molto il design nel senso che è stato comunque mantenuto quello che è lo stile di z7 quindi diciamo questo display che sembra un po' uno smartphone per il tipo di cornice che ha anche se alla fine è sempre un 3,2 pollici che comunque funziona molto bene la particolarità parlando di corpo quindi materiale sempre di display ve la faccio vedere avvicinandovi è questa qui ecco vedete che sono dei diciamo dei tasti a sfioramento non sono in rilievo sono direttamente sullo schermo funzionano bene nel senso che sono i classici zoom a livello digitale nel senso che con questi tasti potete zoomare nel mirino e avere quindi una messa a fuoco più precisa poi c'è il classico tasto disp per cambiare l'impostazione del display così come poi troviamo anche in questo caso i classici tasti quindi il d-pad già visto in nella serie z comunque anche diciamo il design degli altri tasti e delle ghiere rimane comunque eccolo qua molto invariato rispetto a quello che sono quello che abbiamo conosciuto finora con z6 z7 nella parte frontale troviamo i classici tasti di funzione e il tasto di sgancio per l'ottica qui ho montata l'ottica di x1650 pancake 3563 che infatti ha questo classico meccanismo diciamo di chiusura come vedete che blocca completamente l'ottica infatti se accendete la fotocamera così non potete scattare perché l'ottica va sbloccata questa cosa non l'ho mai apprezzata particolarmente nel senso che mi sa un po' di chip però a conti fatti ragionando bene su questo fattore devo ricredermi perché nel senso è vero che potenzialmente si potrebbe perdere quell'attimo perché magari dovete aprire l'ottica vi dimenticate ah no già è vero sì è un discorso molto soggettivo però fondamentalmente rimane rimane molto compatta nel senso che se la usate non so nell'effettivo di una borsa in uno zaino da portare in viaggio per il trasporto in facilità effettivamente lo spessore è estremamente ridotto come vedete non va a come dire esagerare la lunghezza del corpo con cosa che potrebbe succedere una qualsiasi ottica ovviamente anche zoom come ad esempio il 55 250 presentato appunto insieme a questa fotocamera di x e quindi di conseguenza rimane tutto molto compatto vi faccio vedere ecco il dettaglio che sporge proprio un pochettino in più rispetto all'impugnatura quindi questa cosa è sicuramente molto molto interessante parlando di caratteristiche un po più tecniche un po più diciamo di ciccia troviamo fondamentalmente nella parte dietro l'obiettivo posso dire così diciamo togliendo l'obiettivo c'è il classico z mount che vi faccio vedere velocemente prima che entrino topi ragni nel sensore copriamolo subito mannaggia a me il sensore ovviamente più piccolo perché non è full frame è una psc chiamato dx da nikon ma il vantaggio proprio che lo spessore diciamo il diametro della baionetta rimane invariato quindi di conseguenza è come z6 z7 pertanto potrete montare ottiche anche full frame di z6 z7 quindi sempre serie z full frame su dx questa qui oppure dx quindi questa su full frame sempre serie z e non solo perché con l'adattatore che abbiamo già conosciuto con la serie z potrete montare anche le classiche ottiche nikkor per reflex o comunque anche di un tempo convertendo poi il tutto diciamo in digitale e di conseguenza avendo comunque aiuti per la messa a fuoco se l'ottica autofocus e così via quindi questa cosa mi è piaciuta molto ma non è come dire una novità è un vantaggio il fatto che sia stata portata su comunque quella che dovrebbe essere considerata un entry level della serie dx mirrorless di nikon ma in realtà così non è non è per il semplice motivo che il sensore è da 20,9 megapixel ha una buona qualità di scatto funziona bene ha comunque un 90 per cento di copertura dell'area per quanto concerne l'autofocus autofocus ibrido da 209 punti si comporta bene con le varie modalità quindi di conseguenza con la f continuo la f singolo e così via e di conseguenza ho avuto modo di vedere che per quanto concerne lato foto si comporta decisamente molto molto bene si comporta un po meno bene secondo me dal lato video nel senso che non è proprio sempre reattivo non è sempre funzionale non è sempre così rapido come annunciato perché ho fatto qualche piccola prova banalissima proprio durante la presentazione spostare un po la fotocamera per avere un focus magari su un soggetto in primo piano un soggetto in secondo piano insomma cose banali che si possono fare un evento non sono rimasto particolarmente colpito però c'è anche da dire che comunque di fatto la sempre lato video è un prodotto che offre comunque una risoluzione fino a 4k 30 con alcuni piccolissimi diciamo dettagli per quanto riguarda minimo effetto log di gamma c'è infatti il classico settaggio neutro di nikon all'interno dei profili che simula un pochettino quello che è appunto un log di gamma per resto non mancano ovviamente bluetooth e wifi cosa che garantisce a z50 di funzionare con il sistema snap bridge quindi di conseguenza potete collegare il vostro smartphone o il vostro tablet senza fili per scaricare in temporale le foto e con la nuova versione snap bridge è possibile anche passare i raw quindi tramite wifi riuscirete a passare i raw direttamente sul vostro iphone il vostro telefono android il vostro ipad ma anche il vostro computer volendo quindi anche questa cosa è sicuramente molto apprezzata oltre al fatto che ovviamente con snap bridge rimane quello che è diciamo il controllo remoto della fotocamera quindi potete allontanarvi dalla fotocamera e controllarla da lontano da qualche metro di distanza senza particolari problemi troviamo poi una cosa che mi è piaciuta veramente tanto e che non è facile trovare su un diciamo range di prezzo così basso è la porta del microfono che qua di fianco si può tranquillamente ecco con sempre con jonathan autofocus in collaborazione ufficiale la porta del microfono vi permette di collegare appunto un microfono esterno per gestire meglio l'audio per i video cosa che è veramente molto importante manca però l'uscita per le cuffie quindi non sarete propriamente in grado di monitorare l'audio e questo forse un pochettino un difetto però resta comunque compatibile questa fotocamera con monitor esterni come ad esempio gli Atomos che comunque hanno fatto questa collaborazione con Nikon per appunto garantirvi l'uscita hdmi insomma non c'è molto altro a dire su questa Nikon z50 scatta bene funziona bene secondo me è un ottimo prodotto per un buon rapporto qualità prezzo soprattutto anche perché vi ricordo che avete il classico display tilt in touch nel senso che si può effettivamente orientare sia in basso in alto ma si può anche girare ed è una cosa che attiva automaticamente nella fotocamera un settaggio che appunto vi permette di fare un autoritratto quindi un selfie in maniera molto rapida perché appunto girando la fotocamera così la fotocamera va in modalità autoritratto tilt in touch funziona bene sempre col dito quindi ovviamente come un classico monitor touch non ci sono particolari problemi e per quanto riguarda invece un'altra caratteristica che per un attimo come dire temuto tranquilli c'è comunque lo slot sd quindi non c'è xqd robe varie potete usare una normalissima sd che è ubicata qui sotto qui sotto insieme alla batteria scelta un pochettino discutibile batteria anche in questo caso la batteria è completamente nuova vediamo se riesco a farvela vedere eccola qui eccola qui non riesco a farvela vedere vabbè accontenta eccola qua adesso ve la faccio vedere da 1250 1120 mAh quindi è sicuramente potente non posso dirvi però in questo momento la reale autonomia in fase di scatto perché andrebbe provata meglio non ci sono grandi dati si suppone tra i 300 e 400 scatti vedremo la costruzione comunque mi sembra molto molto bella come vi dicevo prima il feeling è molto buono la resistenza sembra effettivamente valida quindi diciamo che mi avete fatto molte domande su instagram stamattina quando ho postato la storia come solito negli eventi in cui vi chiedo fatemi delle domande molti mi hanno detto ma è vero che in mano sembra un po chip come viene definita sul web secondo me no nel senso che effettivamente è solida ben costruita funziona bene non mi sembra per niente chip nel senso che la rifinitura è veramente ottima e a tal proposito si arriva al rapporto qualità prezzo perché nikon z50 con in kit l'ottica dx 1650 quella che vedete qui nel video la pancake e una sd da 64 giga di lexar costerà 1119 euro a partire da circa metà novembre staremo a vedere questo secondo me è un prezzo assolutamente ottimo perché vi permette comunque di avere un prodotto di qualità che fa buoni scatti con una buona risoluzione video in 4k o comunque se volete 1080 120 che funziona molto bene un buon autofocus l'autofoto un autofocus un po migliorabile lato video ma che globalmente garantisce delle ottime prestazioni quasi da fotocamera professionale quindi anche in questo caso come sempre ovviamente se avete delle domande particolari potete farle nei commenti ovunque adesso che è un classico momento in cui si chiude il sipario e mi allontano da questa rumorosa via tortona di oggi e 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